La prima presentazione dell'incontro, il saluto del Porto Scudella, di unicinquecentro di unicinquecentro, 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 di unicinquecentro Grazie a tutti ieri 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 del BNI, e ieri ieri giocatori bellissimi. Con la prima parte di il territorio. Tutti ieri del BNI e del Belentino dei Fastback, il 66 come il campionato di diritto di prima volta del bambino in Serie A. L'U. BNI, McClana, il BNI, M. Barba, 4... Grazie. 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 La partita ha cambiato padrone mille volte davvero. Servizio per Valerio Vermeer, ora il match ball è per la Lube. Diceva sempre Saraceni, Paolucci per Benz e in campo il muro di Facundo Conte. La Lube vince, 16-14 al daybreak e chiude nella maniera migliore questo 2010. Una partita non bella ma vinta davvero con il cuore di una squadra che non si arrende mai, anche nelle serate più difficili. La Lube ha annullato il match ball. Fala a presto! Fala a presto! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.